AVP 501 è un grandissimo viaggio nella natura e nell'ambiente dei parchi regionali della Emilia-Romagna. È una gara di trail running che si sviluppa in tutta la regione, è una attraversata. Il nome deriva da Alta Via dei Parchi, cioè un sentiero che ha creato la regione Emilia Romagna nel 2012 e che tocca tutti i parchi regionali interregionali e nazionali dell'Emilia Romagna. Si passerà dalle grandissime foreste iniziali alle montagne di Gesso all'altro canale Penninico che divide l'Emilia Romagna con la Toscana. Questa che è una attraversata completa dell'Emilia Romagna penso che resterà negli occhi e nel cuore degli atleti per tanto tempo.